Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al B per Forum Monzani. Lo scorso anno ci ha ammagliato con una straordinaria lezione sul coraggio. Allora gli strappammo la promessa di tornare qua per voi, che siete un pubblico meraviglioso, siete davvero numerosissimi e lui ne sarà davvero felice. Oggi lo ascolteremo con delle parole, una lettura sulla passione, ancora più emozionante, che è il vero motore della vita. È con grande piacere che abbiamo qua con noi Paolo Crepè. No, perché mi mettono sempre dei tavolini in mezzo. Non sono così cattivo, quindi... Poi finalmente ci vediamo negli occhi. Come va? Allora, intanto non è un anno fa, ma è un anno e mezzo fa. Tanto per essere... 2017. No, bisogna essere precisi a Modena. O no? Eh? Novembre 2016. Allora, no, ne hai passato un po' di tempo. Non so perché scrivi una cosa sulla passione. Ma perché... Perché... Per due motivi. Uno è un necessario ringraziamento a tutte le persone che mi hanno dato un esempio di passione. Cominciare dai miei nonni. Io vengo da una famiglia di artisti. E... Si legge? O no? No, perché se uno non è d'accordo basta alzarlo. No, io vado via però, eh. Se non siamo d'accordo neanche sulla... No alla guerra, no. Finché si scherza. E quindi poi i genitori, i maestri... E quindi quando sei bambino, ragazzino, giovane adulto, e c'è tutta questa generosità di tanta gente che si mette vicino a te e ti dà l'esempio tutti i giorni che anche fare una crostata ci vuole passione. Anche a mettere dei fiori a tavola ci vuole passione. Anche... Qualsiasi cosa. Figuratevi poi se poi incontri a un certo punto della tua vita Franco Basaglia, che era un signore che andava a letto tardi perché si doveva alzare presto. Allora fai fatica di... Quando sei un giovane di bottega e c'hai un maestro leggendo, cosa fai? Fai da meno? Non posso... Io mi ricordo una volta, mi disse... Hai presente che oggi è ferragosto? Io ho detto, davvero? Non me ne ero accorto. Perché? Perché se c'hai passione non ti ricordi neanche se è Natale, Capodanno... Se c'hai un progetto, se c'hai una cosa da fare, se ti frigge nelle mani come fai a fermarla? Quindi... Ma voi, d'altra parte, dico delle cose scontate. Questo è un paese meraviglioso. Voi siete in una città straordinaria che è nata, cresciuta e ancora oggi sta in piedi grazie alla passione. Perché quel che è di buono fate lo fa la passione. Pavarotti, credo che conoscesse la passione. Così come la conosce Bottura, così come la conosce... I vostri liutai, meravigliosi in questa città. Io ho conosciuto recentemente uno, stupendo, che è uno dei più grandi liutai italiani. E' un signore che fa delle chitarre straordinarie, soprattutto restaura chitarre. che mi ha raccontato questa storia bellissima. Lui era orfano e quindi era stato adottato, non so, dai nonni, da qualche zio, non mi ricordo. Che naturalmente gli avevano detto fai presto perché non è che ci abbiamo tanto per mantenerti. Quindi prima studi, prima vai a lavorare, meglio è. E quindi così fece. Era un ragazzo che era molto interessato all'elettronica e poi appena si diploma all'istituto tecnico viene chiamato da un'azienda molto importante. Entra dentro, ci dà dentro, è bravo, ha talento, scala tutte le posizioni, arriva abbastanza in alto. E poi c'è una ragazza, che non so se fosse la fidanzata o un'amica qui di Modena, che un sabato pomeriggio gli dice sentimi, accompagni che devo andare in un posto. Non chiede neanche dove e l'accompagna. Ed entra in questo luogo magico che era un vecchio liutaio che adesso non c'è più e lui si guarda intorno e aveva queste forme di violini queste cose, questi legni, questo odore questi colori fantastici queste venature del rosso e dice questo è il mio mondo. Esce da quel negozio e dice chiudo tutto scrive una lettera all'azienda tutti gli dicono sei matto? c'è un contratto meraviglioso c'è quello che dicono tutti gli stupidi vai ad andare a far cosa? Molti genitori dicono queste cose qua se uno va vuol dire che ci sarà un motivo, no? Fidatevi meno male che è andato perché poi è diventato quello che è diventato. Allora prendete la parola passione pensate che sia un film allora usate la moviola per tornare indietro provate a vedere è una ricerca che ho cercato di fare che cos'è che produce la passione alla fine? C'è qualche cosa prima che si chiama cocciutaggine per esempio Renzo Piano mi diceva io da bambino ero molto cocciuto ma sai un bambino cocciuto non è intelligente perché io pensavo di sì no no io non ero molto intelligente però ero molto cocciuto volevo fare delle cose ho tentato anche di fare di suonare la tromba poi Gino Paoli una volta mi ha detto per favore è una roba che dice sono tornato al caso tristissimo e ho capito che la tromba no aveva 16-17 anni per fortuna che esiste Gino Paoli perché avremmo un meraviglioso architetto di meno è un trombettista mediocre in più e questa cocciutaggine questo volere 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 è meraviglioso ma poi ci ritorno su questa cocciutaggine su questa bellissima ossessione poi c'è tutta una serie di altre cose però che cos'è il Big Bang? cioè cos'è proprio la prima cosa? la prima cosa ha un nome bellissimo si chiama inquietudine è lì che ci dividiamo nell'umanità tra inquieti e inquietanti funziona così qualsiasi riferimento a persone e a cose ovviamente è del tutto casuale non avrai due o tre nomini però non li farà sani neanche sotto tortura e allora beh sì allora è quella cosa lì prendete uno di questi tre signori che di cui sono molto orgoglioso di essere amico e così complice in qualche cosa Paolo Freso nasce in mezzo al niente Berchide è un posto meraviglioso in mezzo alla Sardegna ma sono dieci case probabilmente 3.000 pecore credo che sia anche difficile trovarla con Google allora da dove parte questa questa cosa parte da un padre strano ecco inquietudine che ti viene mostrata un padre che fa il pastore ma non si fa bastare di fare il pastore c'è qualche cosa in più è un padre inquieto effettivamente è un padre che utilizza il lungo tempo che i pastori hanno quando sono su all'alpeggio per fare qualcosa e lui prende dei pezzettini si porta su dei pezzettini di carta anche del retro degli scontrini della moglie per la spesa e ci scrive ci scrive dei lemmi dei lemmi di sardo antico per ricordarsi di una lingua che forse potrebbe scomparire quando morirà darà credo 35.000 lemmi a suo figlio perché ne abbia memoria e custodia e credo che prima o poi uscirà qualche cosa che li raccoglie e quella quel esempio di piccola stranezza che si chiama inquietudine poi viene applicata passa una banda sotto ti viene ti nasce la necessità la voglia di far qualche cosa è bellissimo quelle inquietudine lì ecco quando lo dico per i genitori se ci sono degli insegnanti dovete premiare tutte le creature inquiete che incontrate cominciare dai vostri figli e cominciare dai vostri allievi premiate la loro inquietudine una ragazza mi ha chiesto io non so come giudicate i giovani voi io li giudico come si giudica il pesce al mercato dagli occhi è lo sguardo è lo sguardo che ci dice se ci hanno lo sguardo interessante vispo inquieto appunto allora va bene qualsiasi cosa se ci hanno la palpebra abbassata aspettano l'after hour c'è più niente da fare no no siccome l'after hour la pagate voi evitate non sponsorizzate la non inquietudine per favore perché la cosa peggiore per noi viventi in questo mondo che siamo tutti dei viandanti siamo tutti dei naviganti la cosa peggiore per un navigante sapete qual è è la mancanza di vento quando c'è bonaccia il navigante è triste è salvo non succederà niente ma odia soldini che ha fatto Hong Kong Londra e ci ha messo tre giorni e tre notti di meno mica male diceva una cosa bellissima io sono andato in cerca delle tempeste guardavo dove erano le tempeste ci andavo a beccarle non dentro ti distrugge lambirle questo è il talento prendi quel vento gonfia le tue vele e vai più veloce questa è una grande metafora della vita abbandonate le bonacce le cose comode i divani ma perché io lo so che magari i divani adesso mi denuncia però tutti sti divani ma ci faranno bene una volta non c'erano i divani nelle case vi ricordate non c'erano i divani sono venuti dopo con la borghesia c'erano delle sedi ma le sedi hanno un loro perché sono dure abbastanza scomode non ci stai delle grandi ore non è che uno dice sai ho stato tutto il pomeriggio su una sedia no e quindi siccome dobbiamo stanare la nostra pigrizia dobbiamo provocarci e allora ecco scusate quelli di dove sono di Cesena dove che li fanno portate le mie scuse però secondo me o divani molto spartani ecco non so cose mezzo centimetro di gomma più ma sì e no quelle cose lì oppure diventano delle trappole come in parte anche la tecnologia digitale Paolo Freso mi racconta una cosa straordinaria bellissima Miles Davis Miles Davis nasce in una famiglia il papà fa il dentista niente di che un paesino in mezzo al Middle East in mezzo al niente Miles è già inquieto molto è ragazzino già suona con degli amici fa un po' tardi la notte papà e mamma si cominciano a preoccupare questo studia poco fa niente no chissà cosa farà da grande eccetera eccetera ad un certo punto Miles va dal suo padre e dice papà ho messo la testa al posto ah però questa è una bella notizia incredibile non ci avrei mai creduto dice sì sì ho messo la testa al posto e vorrei andare al college ah e dove vorresti andare a New York un college molto caro anche chiama la mamma tutti quanti tutti contenti visto hanno pensato male eh bisogna mai pensare male effettivamente lui voleva andare a New York non al college non c'è stato neanche un'ora al college è andato lì è lì che principia la sua cociutaggine la sua piccola ossessione lui domanda tutti e tutta la gente che incontra che che ha a che fare con la musica tutti i neri che incontrava e faceva sempre la stessa domanda dove diavolo suona Charlie Parker dove diavolo suona quell'uomo e tutti gli dicevano guarda lascia stare Charlie Parker sì suona da Dio ma è un ubriaco un mezzo drogato tu sei un giovane cosa vuoi andare in mezzo a questi posti se è un club in periferia non è non è una cosa per ragazzi ditemi dove diavolo sono quell'uomo lì finalmente uno glielo dice e lui ci va e uno che ha una ossessione del genere uno che ha quella sacra cociutaggine inquietudine che cosa fa va lì e va a sentire un concerto di Charlie Parker una serata e va via no non ci va una sera non ci va due sere non ci va una settimana non ci va tre settimane ci va per alcuni mesi tutte le sere davanti prima fila in uno dei rari sprazi di lucidità del maestro Charlie Parker che ne aveva veramente pochi lo vede e gli dice ma tu cosa vuoi da me perché sono dei mesi che sei qua davanti che vuoi e dice sentire lei che suona e si cosa ti importa sei venuto un sacco di volte basta uno viene a sentire un concerto basta perché sei qua e dice perché io voglio sentire proprio bene come suona lei e cosa te l'importa cosa fai te musicista ah tu saresti un musicista e cosa suoneresti la tromba come me no non come lei molto peggio però la tromba e cosa vorresti suonare con lei suonare con me tu sì e quando immediatamente c'è la tromba qui eh vieni su come on boy vieni qua vediamo cosa sei capace di fare guardate questo microfilm cioè ma il Davis ha un secondo per dire tutto della sua vita un secondo dentro c'è improntitudine sei davanti a un grandissimo hai anche coraggio di dire che sono nella tromba eh sei lì c'è un secondo per dire non torno domani subito in questo momento non sono preparato non avrei mai pensato di stare però lo voglio fare subito in realtà sono sempre stato pronto pronto che cosa non lo so esattamente perché non si può essere sapere a che cosa si è pronti ma bisogna essere pronti quindi c'è improntitudine senso della sfida ma anche un'altra parola bellissima ambizione qualche tempo fa in un liceo un ragazzo mi ha detto anzi ve lo devo dire la verità era in provincia di Modena scusate ma succede va sempre bene a Modena però ci sono delle eccezioni mi ha detto ma secondo lei l'ambizione è una patologia questo è Modena io gli ho detto io spero che tu sia orfano te lo auguro perché se c'è un papà e una mamma che ti hanno insegnato che è là ambizione è una patologia se hai messo male scappa via prendi il primo autobus ma cosa gli raccontate ai ragazzi ma io non so ma dove li volete tutti in cantina con la Berkel a fettare il prosciutto ma io non lo so ma un ragazzo non deve dormire più di due notti sullo stesso letto è una prova di vitalità cerebrale ma scusate tutti in casa tutti con rosolio come il nonno no vi vedo impacciati cosa è successo ma non eravate così scusate questa meraviglia che avete l'ha fatta gente che ha sfidato il mondo ha sfidato la vita non è rimasta seduta e allora bisogna fare così bene quella notte inizia una leggenda due leggende che poi suoneranno insieme e dopo alcuni anni quando Miles Davis è diventato quel mostro sacro che è che è stato e che sempre sarà e che era invitato in ogni parte del mondo però lui faceva anche delle cose per la causa dei neri perché era un uomo di grande di grande cuore di grande sensibilità io ho avuto la fortuna di sentirlo mi ricordo alla Fenice portai anche l'allora mia fidanzata io piansi tutto il tempo lei mai ci lasciamo prestissimo ma una che non piange davanti a Miles Davis è come una che inviti a cena e mangia miglio la stessa roba o no ma dov'è oh la passione vuol dire anche quella roba lì oh non so se vi ricordate qualche vecchio racconto quella roba che fa sangue non è una brutta parola fa sangue ti inonda il cervello vedi più lungo allerti tutti i tuoi sensi hai i pori della pelle dilatati non è una roba brutta non è che i pori della pelle si dilatano solo se fai la sauna che miseria allora va a fare dei concerti gratuiti naturalmente i ragazzi che suonavano con lui non erano contenti perché la paga era zero però lui li voleva fare non si poteva dire di no a Miles a un certo punto va a fare un concerto c'è la registrazione me l'ha fatta sentire Paolo Fresa va in non so dove in sud degli Stati Uniti paesino cittadina niente di che quella notte i ragazzi musicisti non avevano voglia di fare niente ma lui si sarà una notte indimenticabile per certi versi per certi misteriosi versi comincia il concerto con i pezzi più noti kind of blue eccetera eccetera poi i ragazzi lo portano a suonare una cosa che si conclude con un lungo assolo così finalmente gli altri non suonavano visto che lo vuoi fare fallo te e Miles inizia eh Valentine inizia va su 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 quasi fino al cielo con le sue note fino a due note terribilmente stonate sbagliatissime c'è un grande silenzio in sala imbarazzo era gente che aveva l'orecchio buono capito Miles Davis è stonato e poi dopo qualche secondo c'è qualcuno che si alza e applaude fragorosamente tutti si girano questo uomo e chi è questo che applaude alle note stonate si chiama Gil Lesby il più grande trombettista che sia mai stato molto più grande anche tecnicamente di Miles Davis tutti lo dicono e perché un uomo così applaude ad un giovane di grande valore ma che ha sbagliato perché così fanno i grandi maestri applaudono quando sbagli sanno che cadrai ma applaudono quello perché vuol dire che hai provato ci hai provato con tutto quello che hai naturalmente quando ci provi non sempre va bene i giapponesi dicono la vita è cadere sette volte e rialzarsi otto esattamente così cadere sette volte e rialzarsi otto non non vivere per non cadere mai è così e allora bisogna aspettare che che qualcuno cada i ragazzi cadono poco gli abbiamo messo tutti i paracaduti ci sono dei genitori non a Modena ci sono dei genitori che fanno lo zainetto ai figli è strano vero a Modena ma altrove molte migliaia di chilometri da qua ci sono c'è un papà oppure una mamma perché pari opportunità nell'idiozia capisci che fanno lo zainetto a suo figlio tu pensa a te nascere con due genitori così che ti dimostrano tutti i giorni che sei un perfetto idiota totalmente idiota totalmente idiota che non sai fare neanche lo zainetto cosa sarà di te il nulla pensa i tuoi sponsor sono i primi a dirti che non sai fare niente che se non ci fossimo noi si sa le note che prenderesti eh lo accompagno a scuola perché se no si perde pensa che forza che gli dai che coraggio che gli dai non vi pare strano ma voi pensate che questi ragazzini diventino che cosa dei mangiatori di orizzonti ma va là ma questi stanno a casa abbassano la palpebra una ragazza di un liceo anche questa con l'occhio buono mi fa se lei fosse il mio professore lei valuterebbe più la mia preparazione o la mia passione intelligente la ragazza bella domanda la risposta vera non quella ipocrita noi siamo capaci di valutare la preparazione la passione non ci piace mica tanto eh leggi 45 pagine in manzoni e tutti leggono 45 pagine in manzoni magari c'è anche qualcuno che ti fa imparare a pascoli a memoria è preparazione non è passione c'è una differenza molto perché se bastasse la preparazione io sarei un perfetto latinista perché ero preparato per quella interrogazione di 50 anni fa mi sono preparato ad hoc due ore dopo non sapevo più niente perché mi ero incollato nella testa delle cose perché non mi piacevano non mi interessava niente il latino poco quasi niente e quindi e quindi ero preparato ma non ero appassionato e le cose di cui sei appassionato guarda caso ti rimangono nella testa hai voglia anzi sono i germogli di quello che poi tu costruirai ma se tutti ti dicono non importa che tu abbia passione perché la passione ti fa fare delle cose strane la passione non si governa e il bello è quello il bello è non governarla ma perché la devi governare la gestione dei sentimenti ma perché perché dobbiamo gestirli viverli la passione va vissuta una donna mi disse veniva da me a studio a un certo punto mi fa secondo lei come faccio a dire di no ad una cosa che mi appassiona tantissimo ma che so che sbaglierò dico il signore sta parlando di un uomo ovviamente mi fa lei dico signora c'è niente da fare lei vada sbaglia vada con dei cerotti magari nella borsa qualcosa un goccettino di cordial campari nei momenti tristi ma vada ma cosa fai scegli di non andare per non per non romperti le mani ma te le rompi ma tanto te le rompi comunque sarà meglio romperle con la passione che con la noia no quando si sceglie si sceglie comunque si sceglie anche quando non si sceglie ma la migliore scelta è scegliere quando scegli di non scegliere si cosa fai la prevenzione di qualche piccolo dolorino di qualche mal di testa di qualche notte insonne le migliori notte della mia vita sono state quelli insonni quando dormi non ti ricordi neanche niente di quello che hai fatto invece quando sei insonno è bello ti si ingigantiscono le cose poi arriva l'alba che è una bella pialla ti rimette a posto ti rimette a bolla come dite voi e questo credo che sia molto interessante ma non succede sempre così Senigallia Senigallia Adriatico bella serata io quando posso faccio serate come queste poi la mattina vado a incontrare i ragazzi scuole medie superiori con voi è un po' difficile ma con i ragazzi studi sette volte di più perché se volete stare due ore senza che nessuno smaneggi il telefonino dovete dare tutto tutto quello che avete mettervi in gioco totalmente e forse non basta neanche quello però ci devi provare modestamente ci provo ci riesco è stata una bella mattina c'erano 500 ragazzi discussione animata eravamo d'accordo come devono essere le cose poi arriva io ormai non mi accorgo neanche bene dell'ora che passano come adesso e a un certo punto ho visto che c'erano degli insegnanti che cominciavano a organizzare i ragazzi perché erano arrivati i pool ma dovevano partire e dico beh vabbè allora ciao a tutti in quel momento si alza un ragazzo in alto a destra un giovanotto magro interessante rasta c'è un mormorio tra i ragazzi e le ragazze dico secondo me si finisce bene con questo non so perché ma a occhio posso farle l'ultima domanda dico certo le dispiace se sono diretto con lei dico no anzi mi farebbe molto piacere che tu fossi diretto con me dice guardi io sono venuto qui che non sapeva neanche lei chi fosse però poi ho sentito dire anche qua dai ragazzi lei è uno capito anche da quello che dice lei è uno che scrive dei libri che va in giro per l'Italia fa anche delle cose in televisione insomma una persona importante vero qual è la domanda ma chi cazzo gliel'ha fatto fare di venire da noi interessante i genitori che dicevano meno male che non è il mio no gli insegnanti svenuti perché noi siamo quelli che guardano il dito e non la luna lui ha detto una cosa tragica sapete ha detto io ho 18 anni e non è mai transitata davanti a me nessuna persona appassionante o è un delitto o no passano avanti i genitori che parlano di mutuo insegnanti che parlano di andare in pensione e la passione e la passione dov'è e quel ragazzo lì non ha forse un diritto a vedere qualcuno che si scalda per lui che si arrabbia per lui che butta giù la giacca per lui non è forse un diritto a vedere che cosa è la passione la devi vedere negli occhi nella pelle allora la impari dici questa è passione e se è questa la cerco perché la vita sono due tempi come una partita di calcio al primo tempo sei spugna assorbi bisognerebbe sempre fare un sacco di domande io io ne ho fatte sempre fin da piccolo tantissime credo di essermi salvato credo che una buona parte della mia cultura sia nelle domande che ho fatto perché quando fai le domande ti risponde la gente ti dice racconta della propria vita quella è cultura la cosa bella è che la vita di un premio Nobel e la vita di un posteggiatore abusivo è interessante comunque è la vera democrazia è la vita che hai che hai trascorso e ognuno in ognuno delle due c'è qualcosa sicuro e questo ti fa sì che fai sì che quel primo tempo lì butti giù butti giù dentro dentro assimili vai comincia a costruire anticorpi contro il contrario di tutto questo anticorpi contro la noia contro la ripetitività contro il copia e incolla contro le facilitazioni comincia a avere tutta questa meraviglia la seconda parte della vita tutto quello che ti hanno dato lo devi ridare io sono ampiamente nella seconda parte della vita e questo faccio di mestiere io rido quello che mi è stato dato magari mettendoci qualcosina in più bellissimo l'altra sera sono stato a cena con Renzo Piano andare a cena con Renzo Piano vuol dire fare quello che facevo da ragazzino io giocavo con il mappamondo c'era un mappamondo una camera da letto lo giravo quando ero un po' annoiato chiudevo gli occhi e faccio boom adesso vado là e veniva fuori l'Australia l'Alaska poi alla fine ci sono andato sul serio però vedi ti prepari prima adesso con l'iPad è un po' difficile fare questa roba qua e andare a cena con Renzo Piano è come girare il mappamondo perché una volta mi dice che è stato a Sydney due giorni fa però poi nel frattempo è passato per San Francisco ho fatto una lezione poi è venuto qua boom come fa non lo so e quando ci siamo visti gli ho detto no no sono venuto da vicino tipo Lione e cosa hai fatto Lione? ho fatto che Lione è la città dei fratelli Lumière e finalmente hanno deciso di fare un grande progetto c'è la fabbrica ancora quasi tutta su c'è la villa padronale dei fratelli Lumière che è una casa dei primi del novecento neoclassica molto bella insomma l'idea è di fare un grande campus per il cinema sarà la ville Lumière ah bello e io ho detto ma quanto ci metti a fare questo progetto? lui ha detto a correre? sì a correre ma due anni più o meno ho capito e poi ci sarà il cantiere eh certo e quanto dura il cantiere? tu che sai a correre? sì sempre a correre 6-7 anni io nella mia testa facevo 82 lui ha 82 anni più due più 6 o 7 poi metti che anche in Francia succede cambia l'assessore perché succede succede anche in Francia di rado eh non è come qua però anche lì ci può essere e nessuno gli ha detto che ha 82 anni ma lui sapete cos'è? che se ne frega di avere 82 anni io avrei voluto voi non sapete quanto che fosse lì mia figlia a dire impara senti odora queste inquietudine che tu arriverai 82 anni se hai male le ginocchia non te ne frega niente pensa quanta gente che ha cominciato a 50 anni a dire che gli fanno male e tutto il mondo è lì intorno alle cartilagini non si muove da lì tutto un lamento tutta una roba e la minestra è scotta e la cosa mamma mia è un accidenti ma viva sta gente che non si sa se ma chi se ne frega lo inaugurerai sto villaggio del cinema chi lo sa ma che te ne importa ma ci sarà da qualche parte il tuo nome l'avranno scritto ci sarà una targa comunque ci saranno dei giovani che andranno lì a vedersi il cinema a studiare si innamoreranno alla caffetteria perché ne incontri una bellissima alla caffetteria ti innamori tutto grazie a Renzo Piano non è bello non è generoso non è appassionante perché respiri quella passione poi non è che devi fare l'architetto qualsiasi cosa che tu faccia anche a pescare al po' devi essere appassionato ma vedete se volete essere appassionati e questa è un'altra delle cose bisogna sapere le cose di cui vuoi appassionarti perché dentro la passione c'è merito conoscenza non puoi innamorarti appassionarti di Picasso senza conoscerlo perfettamente non sarà mai passione tu devi sapere tutto aver letto diecimila libri sfogliato diecimila pagine con le fotografie dei suoi quadri andare a vedere i suoi musei cercarlo in tutto il mondo e allora sarai veramente appassionato quindi vedete che dentro la passione c'è il merito anche lì e mi dispiace qualcuno gli viene subito la tosse appena parlo di merito lo so che è antipatico parlare di merito oggi è anche poco di moda perché invece è molto più glamour si chiama dice così molto glamour essere totalmente ignoranti eh e essere anche ministri è bellissimo è una cosa meravigliosa cioè no perché questa è la speranza è una speranza per la gioventù dici te non hai studiato niente non sai fare niente non hai non è vero puoi sempre fare il ministro è una cosa bellissima bellissima straordinaria eh e noi saremo finalmente avremo questo mondo migliorato per tutto questo non siete d'accordo? ah no eh oh però qualcuno li ha votati eh scusate se lo dico perché perché noi saremmo anche persone noi siamo anche persone che non è una questione politica non me ne frega niente questo è un paese che è nato sul talento smisurato delle persone noi siamo conosciuti per quello noi siamo orgogliosi di andare in giro per il mondo perché sappiamo fare bene straordinariamente alcune cose o no Alessandro Michele no perché quando vado a chiederlo ai ragazzi eh sempre ai licei e dico cosa ci vuole secondo voi per andare bene nella vita sapete cosa mi rispondono? tre cose tre bestemmie soldi raccomandazioni e culo no scusate possono essere anche vostri figli eh allora bisogna capire chi è che l'ha suggerito eh perché non è farina del loro sacco c'è qualcuno che ha suggerito questo allora c'è una cosa che purtroppo non funziona i soldi non fanno venire idee le idee fanno venire i soldi e voi lo sapete benissimo e quindi c'è qualcosa che non va perché diamo soldi? diamo opportunità perché dobbiamo dare soldi? soldi soldi eh? dare tutto così loro non desidereranno niente se uno ha tutto non desidereranno nulla e se uno non desidererà nulla non avrà mai passione e se non avrà mai passione non avrà mai un progetto di vita a lei perfetto e questo? no sapete cosa fa il 75% degli italiani dà un appartamento e i figli? scusate penso che succeda anche a Modena credo bene che va bene la domanda è cosa ci metti dentro quell'appartamento? quei 100 metri quadri lì cosa ci metti? se non hai niente eh? se non hai un desiderio se non hai una passione se non hai un sogno se non hai una visione non hai niente sapete di cosa si riempiono quei 100 metri quadri? di noia vogliamo anche questo? perché siamo così cattivi? ci vuole una gran cattiveria sperare che i nostri giovani vivano in 100 metri quadri comodi e noiosi ma bene Alessandro Michele fantastico lui dice io non sono partito da zero io sono partito da meno 20 periferia delle periferie romane un ragazzo immaginatevelo 13-14 anni strano un po' che faceva di tutto anche per essere strano capelli viola rosa stivaletti rossi immaginatelo eh? che passa davanti a un baretto della periferia delle periferie di Roma dove ci sono tanti ragazzi che bevono qualcosina eh? cosa gli fanno i complimenti? lo applaudono? eh? o gliene dicono di ogni? lo bullizzano lo menano lo offendono in tutti i modi possibili immaginabili eh? e come si salva un ragazzo così? cambiando? diventando come gli altri? no andando allo stadio come tutti? eh? quei ragazzi sarebbero andati la domenica? no per fortuna c'ha un papà che è un operaio dell'Alitalia persona semplice molto geniale però molto molto strano parla agli uccelli fa cose molto strane lo porta in giro nei boschi eh? gli fa vedere delle cose dice vedi noi non abbiamo bisogno di andare al negozio a comprare la canna da pesca possiamo prendere un ramo e trasformarlo in una canna da pesca piccole lezioni quotidiane di grande creatività e poi succede che un giorno vedono un grande albero che è stato colpito da un fulmine e il padre dice ad Alessandro vedi nella vita succede così succede che c'è una bellissima pianta forte rigogliosa che sta lì da secoli e poi arriva una brutta tempesta un fulmine orribile che colpisce proprio lì precisamente lì e la incenerisce e così muore ma non è esattamente così succede una cosa strana una specie di di magia succede che quando arriva quella saetta e colpisce quell'albero da quell'albero partano centinaia di piccoli frammenti schegge di quell'albero e da quelle schegge nasceranno altri alberi lì finisce quel pomeriggio molti anni dopo Alessandro ha già cominciato a lavorare molto noto credo che fosse a Londra arriva una telefonata di quelle che pensi che non ti arriverebbero mai ma che invece arrivano papà sta male vieni giù prendi tutti i treni che puoi gli aerei che puoi ma lo sai già che non c'è niente da fare arriva manda via tutti rimane lui e suo padre sdraiato all'ubitorio lo bacia e poi dice ma senti un po' ma se è vero quello che mi avevi detto tanti anni fa tu sei stato colpito da un fulmine è giusto? di un colpo sei andato via ma se è vero quello che mi hai detto tanti anni fa sono partite delle schegge una ce l'ho io vivo per te farà come facevi tu di più più creativo di te con più forza di sballordire il mondo capite che bello o no non dobbiamo dare quattro quattro garage eh ce la caviamo così con i nostri ragazzi che al massimo devono andare al notaio che si aspegna che aprono le buste tutto lì tutto lì quello che sappiamo fare tutto lì non c'è nient'altro ma per carità di Dio ecco come si diventa pazzeschi ti inventi delle cose meravigliose l'altro giorno mi ha fatto vedere una pubblicità rideva come un matto mi dice senti questa volta l'ho fatta grossa mi ha detto sono venuti tutti i capi della Gucci tutti preoccupatissimi di com'è che è successo eh sai dobbiamo fare una pubblicità una pubblicità per dei rossetti e allora io ho scelto una signora che le mancano due denti dico come due denti te la faccio vedere io non ci credevo dico come due denti no dico ma con photoshop no eh no io l'ho cercata apposta una signora neanche tanto giovane dice è venuto il capo non so del marketing non so del mondiale dice questo dobbiamo fare delle cose all'oseggio 6 per 3 con sta bocca così eh bello eh bellissimo io lo trovo geniale secondo me sarei indimenticabile vogliamo farle di scusa eh a trovare una ventenne con la bocca ht sai che ci vuole dai su o no dai che ce la facciamo metti dei miliardi su una cosa del genere rischia nel momento in cui avrebbe potuto rischiare zero perché è già il capo del mondo ha vinto tre oscar mondiali della moda in tre anni adesso quest'anno ha fatto male fra l'altro con un modenese perché è modenese no lo dico per quelli che si sono addormentati nel frattempo eh l'amministratore delegato Ragucci è di di qua non è proprio di moden è qua eh di rubiera vabbè abbiate pazienza eh o no beh un bel duetto beh non è che stanno scherzando stanno facendo una cosa beh è un è un modo dissacrante per interpretare il proprio lavoro dissacrante nel senso non offensivo non offensivo eh eh Duchamp eh le grandi rotture del novecento sono avvenute così ma scusate leggetevi le metamorfosi oh e dice così fu e accadde che al signor non mi ricordo come si chiamava dopo una notte molto agitata si risvegliò che era un insetto oh è come un rossetto con una signora senza denti eh perché lì rischi perché è un libro che si chiude e dice madonna è matto sto cecoslovacco questo no mi inquieta non ci dormo tutta la notte e no eh invece quello che ti piace perché capisci che dentro c'è del genio c'è del grande talento eh un imprenditore che non sia un intraprenditore che cos'è un passacarte quell'azienda è già cotta è morta e lo sapete benissimo che funziona così e se il cambio generazionale funziona in nulla è un motivo ci sarà no se da dei grandi eh intraprenditori degli anni cinquanta e sessanta siamo passati ad una generazione di quarantenni eh che l'unica cosa che gli interessa è andare a mangiare il pesce con la Porsche è un problema eh perché si raschia il barile non avete messo via così tanto che basterà per i prossimi trecento anni ci vuol poco distruggere ciò che è stato fatto va rinnovato chi fa chi fa business chi è dentro le cose sa benissimo che quando gli è andata bene è il momento di cambiare non di non di portare a casa i i risultati nel momento in cui vai bene devi cambiare come fa Alessandro Michele esattamente anche Renzo Piano non ha cominciato così papà faceva il piccolo imprenditore di Ile 4-5 operai non vedeva allora che il giovanotto finisse il liceo quello che ha fatto per poi sperando che facessi l'ingegnere e lui no in realtà lui non voleva non fare ingegneria e che siccome aveva capito che l'ingegneria era a Genova l'unica possibilità per andare via di casa era dire che volevi fare l'architetto e quindi ha detto che faccia l'architetto e dove vai? a Firenze dove vai che vada? grande città la bellezza poi ha scoperto che anche lì è bellissimo Firenze è troppo bella pensa a 19 anni uno che dice così non c'è spazio per me è troppo bella abbiamo già fatto tutto andiamo in una società in una città work in progress eh? una città in grande cambiamento Milano è perfetta anni Sessanta l'inizio degli anni Sessanta il turbide del boom economico fantastico c'era tutto i designer nuovi c'era dentro tutto Lucio Fontana che era arrivato tutto c'era il mondo stava muovendosi finalmente come un grande grande organismo che cominciava a pensare a progettare cose nuove e lui va a finire in un piccolo appartamentino allambrate e poi anche lì c'è l'ossessione come tutti gli altri come Michele come Fresu lui voleva andare a incontrare un grande architetto che si chiama Albini Albini è stato uno dei più grandi architetti a cavallo della seconda guerra soprattutto un grande architetto di design di design di interior design bene e come si fa? lui è un ragazzo qualsiasi secondo anno del politecnico alto alto secco secco che fa? è l'unica cosa che puoi fare all'epoca c'erano le pagine gialle le pagine telefoniche guarda Albini vede l'indirizzo e va lì e quando ci vai è nell'unica ora che sei sicuro che lo becchi alle 8 di mattina e suoni davanti alla porta ti presenti esce la moglie che fa finta di essere la cameriera e gli dice no l'architetto non c'è quando posso tornare non lo so lo tratta anche un po' bruscamente non lo so e lui cosa fa? la mattina dopo le 8 risuona e la mattina presto risuona sempre le 8 ting ting alla settima ottava giorno arriva Albini e gli dice senti un po' eh? cosa voglio fare qua? eh? ma tu chi sei? studio politica cosa vuoi? lavorare con lei interessante lavorare con lei cioè adi qualsiasi cosa ha bisogno che rimetta a posto i libri? faccio io sono anche alto arrivo fino in alto faccio tu quello che vuoi ha bisogno di un passaggio c'è la 500 deve andare da qualche parte bisogna di un architetto sono pronto perché vuoi stare là? perché vuoi vedere come principia l'arte ecco è un inquieto che vuol vedere l'inquietudine chi da scrittore non avrebbe voluto essere dietro a Kafka quando cominciava a scrivere le sue cose meraviglioso eh? chi non avrebbe voluto essere un uccellino piccolino che era bellissimo fantastico meraviglioso beh io credo che sia interessante questo volere 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 le grandi cose cominciano da dei verbi molto semplici quello di osare nella vita volere il cambiamento amare le cose che ancora non conosci ed essere umile per sapere che quelle cose lì non le sai sapete chi è Nico Romito? beh sì è uno chef tre stelle non sono tantissime non ce l'avete qua eh? non sono in tanti Nico Romito è un ragazzino che all'epoca aveva faceva l'università a Roma il papà aveva un'osteria negli Abruzzi osteria niente di più la sorella quando si avvicina a Natale lo chiama dice guarda papà non sta più bene non ce la fa più ci devi venire a dare una mano perché adesso sono le feste di Natale guadagnai un po' di più quindi per favore vieni su e lui va su e dà una mano finite le feste dice a se stesso beh non è male questo è frutto di una lunga cena meravigliosa con lui e non è male questo lavoro qua bisognerebbe un po' migliorare questo osteria un po' così un po' spartana c'è anche delle idee poi anche cucinare non è male e comincia eh poi ne parla con dei ragazzi del suo paese i quali pensano bene di fare una cosa un regalo ad un certo punto gli dicono guarda c'è svoluto moltissimo però noi sappiamo che tu hai un mito vero? sì dice c'è un mito più grande cuoco che esiste però è irraggiungibile giusto? sì sì sta vicino a Barcellona impossibile quasi impossibile conoscerlo eh ma noi abbiamo avuto la fortuna di avere un bonus per te ah dice sì 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 nel primo di agosto tu puoi stare lì un mese non ti pagano però puoi stare lì in cucina davvero una cosa del genere assolutamente sì quindi lui parte con la sua 500 va da Barcellona dall'Abruzzo e si presenta alle 8 di mattina del primo agosto c'è il segretario del ristorante notissimo e dice buongiorno io sono Nico Romito come vedete io ho il voucher per stare qui a lavorare è volontario dice quale voucher? è questo qui firmato non abbiamo mai fatto un voucher dice come non avete mai fatto no non ci sono i voucher da noi abbia pazienza se sì non c'è quando voglio venire a lavorare qua non c'è posto c'è la fila lasci stare giri la macchina e se ne torni da dove è venuto anche lì tu c'hai 2 barra 3 secondi cosa fai? lui lo guarda dice scusi signore volevo dirle che io non mi muovo da qua come non ti muovi? no non mi muovo io sono venuto fino a qua e non mi muovo non c'è il voucher però ci sono io quindi inventi qualcosa veda un po' lei guardi che chiama la polizia chiamai pure la polizia non me ne frega niente io da qua non mi muovo questo qui un po' anche va dentro in cucina c'è grande dice guarda che c'è un italiano qua che dice che non si muove ci ha raccontato una balla che c'ha un voucher una roba non so cosa facciamo chiamiamo la guardia civile lo facciamo arrestare dice cosa vuole fare questo ah dice qualsiasi cosa è disposto a fare qualsiasi cosa? sì senti abbiamo le cappe da pulire le cappe come sapete sono il posto più fetido di qualsiasi ristorante sono grasse orrende pieni di germi di qualsiasi tipo no guardi dice guardi se proprio vuole ci sono le cappe e lui mi ha raccontato dice sai io ci ho messo un mese giusto perché andavo lentissimo a lavare le cappe e sai perché? che era una figata pazzesca io stavo su e vedevo il grande maestro che tagliava le verdure sotto e io mentalmente prendevo appunti e sapevo tutto delle fritture e sapevo tutto degli sformati e sapevo tutto ho imparato tutto e quando sono finito quel mese lì sono tornato e ho detto questo è il mio mestiere è diventato il più giovane a prendere la prima stella il più giovane a prendere la seconda stella e il più giovane a prendere la terza stella quando prendi la terza stella ti fanno una grande festa tutti i tre stellati del mondo ovviamente a Parigi e lui mi ha detto sai chi mi ha dato il premio? quello di Barcellona quando mi ha visto mi ha detto ma io a lei la conosco e io gli ho detto guardi io non conosco lei ma conosco le sue cappe perché a centimetro le conosco hai capito? che meraviglia che meraviglia vedi? fai le robe che nessuno ti paga stai in mezzo all'orrore puzzerai per i prossimi tre mesi eccetera eccetera però è lì che volevi andare è lì che volevi andare e ci vai e quando trovi il tuo grande maestro che ti dice bravo e dalle cappe si comincia dove vuoi cominciare? dai piatti d'argento? dalle cappe si comincia da lì dall'umiltà stai lì guarda prendi appunti guarda come mi arrabbio col mio secondo perché non ha fatto in quel modo lì guarda tutti i piatti che volano guarda come si serve guarda come si impiatta si o no? e allora ce l'ha fatta lui perché non ce la dobbiamo fare noi tutti ce la possiamo fare e questa è la cosa più bella del mondo secondo me o no? no eh? una volta a scuola mi dissero che avrei dovuto che cosa avrei voluto fare da grande io scrissi essere felice i professori mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito la vita John Lennon credo che sia così che funzioni niente di meno di questo dobbiamo innamorarci delle cose belle vere io penso che che sia così due anni fa tre anni fa ho scritto un libro che si chiamava Coraggio l'anno scorso è uscito questa cosa sulla passione e allora mi è venuta in mente che sia una piccola formulina coraggio più passione uguale libertà che non è scontata che non è scontata hanno lottato i nostri nonni hanno lottato i nostri padri i miei padri non è scontata la libertà dobbiamo essere tutti attenti non è scontata la libertà la tecnologia non dà necessariamente una mano può essere anche un grande allarme in Cina in Cina sono tutti schedati con programmi di identificazione facciale perfetti impossibili da cambiare non è per identificare i migliori è per identificare i dissidenti ma noi siamo qua perché siamo dissidenti noi siamo qua perché siamo un po' eretici perché ci piace fare di testa nostra perché vogliamo fare di testa nostra e questo non è un arbitrio mia mamma quando ero alle medie fu chiamata da una professoressa non mi ricordo come si chiamava era veramente disgustosa era brutto orrendo non poteva dire che sciocchezza secondo me mi chiesi perché ci vai mi ha chiamato sarà importante tornò e alla sera parlò con mio padre fitto fitto io capì che c'era successo qualcosa mi misi dietro la porta a cercare di capire qualcosa a un certo punto sentì mia madre che disse sai mio papà si chiamava Massimo sai Massimo hanno detto che il nostro figlio è un visionario io ho detto oh madonna santa cosa vuol dire che sono matto io sono un visionario mi spiaggia voglio vedere oltre mio nonno mi diceva non buttare sempre il cappello sulla tacca panni per favore buttalo oltre fai qualcosa in più o no è bellissimo fantastico è il senso della vita è il senso della della prova bisogna imparare a fare una cosa bellissima secondo me che che facciamo raramente commuoverci e anche in qualche modo fa qualcosa che ci esalti è bello credo che dobbiamo anche insegnarlo ai ragazzi a leggere qualche cosa che vada oltre Manzoni scoprire un poeta che nessuno ha letto andare in un bosco dove nessuno è andato scoprire qualche cosa che ancora non c'è questo si chiama umiltà è bello è bellissimo quando io andavo a trovare mio papà che era vecchio e solo da tanti anni perché mia mamma è morta giovane lui aveva quella sua casa piena di libri di quadri e di bellezza sapete sapete bene che cos'è la padania quando fa umido e le pioggioline quella roba orrenda un uomo 85 anni si attacca al termosifone cosa deve fare spera che ci sia qualcosina in televisione e poi comunque c'è un romanzo da finire sul comodino e così no e magari io arrivavo ero giovane baldo e avanguardista come avrebbe detto gli annacci e ero così ero così pieno di idee così pieno di fervore e mi capitava magari di arrivare là e dire papà c'è un concerto stasera e mi giravo e c'aveva già la giacca su io non me la sono più tolta e così non mi sono più tolto con la giacca là sono sempre pronto non dico mai di no è brutto ma può darsi qualche mese fa è morto il mio vecchio amico si chiamava è stato il più grande fotoreporter di guerra degli ultimi 50-60 anni cagnoni grande uomo io ci avevo lavorato tanti anni fa a Londra avevamo fatto delle cose assieme anche un libro si chiamava A geometria del dolore poi avevo sentito che era tornato nella sua pietra santa lui era figlio di un cavatore di marmo gente semplice dura quelli che vanno su con un pezzettino di lardo di colonnata perché non possono tornare tutte le sere a casa e uno sta su e magari fa freddo sapete ed è pericoloso si scivola sul marmo bene e quell'uomo aveva mantenuto quella durezza di quel padre ma anche quella positività ripasso per per pietra santa so che è lì ci siamo persi da tanti anni chiedo al ragazzo che sta lì all'albergo gli dico tu conosci Romano Cagnoni dice certo che conosco chi è che non lo conosce pietra santa è un uomo straordinario ha fatto un sacco anche di libri di cose anche su pietra santa sui cavatori di marmo è uno dei più grandi fotografi che ci sia e lo dico sì ma è vivo vero? sì certo che è vivo è vivo c'è una casa che ha rimesso a posto dice me lo chiami? io non ho più il telefono mi chiama mi passa il telefono e dice Romano sei tu? sì sono io è tanto tempo che non ci vediamo e dove sei? a pietra santa tra mezz'ora in piazza davanti a un bicchiere di vino ho pensato questo non è cambiato per niente che già all'epoca fotografie e vino e lo vedo arrivare al pietra santa c'è una piazza un po' in discesa arriva già così come un grillo con queste giacche che usavano i fotografi con tante tasche tutti i rullini queste robette qua vedo giù si siede finalmente beviamo ci guardiamo come va come non va gli dico senti già all'epoca quando eri a Londra non eri proprio un ragazzino non sei cambiato per niente ma quanti anni hai? gli avrei a lui questa è la domanda che non dovevi fare e cosa dovevi fare? che domanda ti dovevo fare? quello che mi avrebbe fatto Indiana Jones ah sì e cosa ti avrebbe chiesto? quanti chilometri hai fatto? vecchio amico li puoi fare anche solo con la testa eh i chilometri non è detto che devi andare in Alaska tutte le settimane eh li puoi fare anche con la testa basta che sia on il tuo cervello eh ecco i chilometri che devi fare nuove idee nuove sfide sballordire 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 è una cosa bellissima vi lascio con questa cosa di un di un grande è un grandissimo è stato il più grande ballerino di tutti i tempi si chiamava Nisinski scuola del Boshoi prima della guerra il più grande il più straordinario il più bello il più tutto eh grande maestro di Baryshnikov di tutti di Nuriyev tutti i suoi allievi inimitabile però il maestro naturalmente da Bolshoi a Parigi la consacrazione all'Opera tutti matti tutti innamorati di lui più bello non c'era uomini donne bambini vecchi tutti e naturalmente essendo così bello e così famoso e così straordinario era anche molto narciso ovvio e quindi lo invitavano in tutte le feste tutti i salotti tutte le cose c'era a contenderselo e lui si confida con un suo amico dice guarda sì voi siete così generosi carini voi francesi mi invitate però io sono un po' triste sapete perché non ho mai incontrato il mio mito cioè tu avresti un mito eh sì certo che c'è un mito è anzi un vostro concittadino un francese e chi sarebbe il tuo mito si chiama André Marrot André Marrot è stato uno dei più grandi intellettuali della Francia prima dopo guerra ministro del governo di De Gaulle ministro della cultura un uomo straordinario per chi volesse approfondire il museo immaginario e il suo libro è cultura spropositata non sbagliava i congiuntivi ci credete dice come ho fatto a diventare così famoso oh bene no io ce l'ho con sta storia di congiuntivi scusate è cacofonico va bene chissà se De Maio conosce André Marrot secondo me l'ha letto bene allora questo qua dice bene quindi sei triste per questo sì sono un po' triste per questa vicenda qua allora facciamo così io organizzo una cena e vedrai che tra una settimana arriverà il grande professore mi dice che così in ansia che arriva anche un'ora prima ed è lì che va su e giù per il corridoio finalmente arriva si palesa André Marrot gli si fa incontro professore io sono un esiste che dice guardi non c'è bisogno che me lo dica conoscono anche i sassi qua a Parigi dice sì però va bene grazie però lei è un mito chi è un mito dice lei per me è lei il mito dice sì ma è lei il mito sì va bene insomma mettiamoci il raccoglio io sono qua per dire a lei che è il mio mito ah sì sì ho letto tutte le sue cose mi sono servite nei momenti difficili della mia vita io sono qua per dirle grazie però vorrei anche dirle cosa posso fare per lei vorrei fare qualcosa per lei professore non so mi dica vuol fare qualcosa per me sì e per te stupiscimi bello bellissimo non fare le cose che hai già fatto hai già fatto le sai fare alla perfezione fare una cosa nuova fare una cosa nuova per me tu pensate che bello tu sei capace di fare qualcosa di sorprendente di straordinario che non hai mai fatto eh pensa che bello un insegnante che dice a un ragazzo stupiscimi non fare le cose che ti ho detto io fanno un'altra dimmi che hai fatto un'altra cosa noi dobbiamo essere gli sponsor dei progetti dei giovani non degli spritz dei giovani dei progetti quando un ragazzo ha un progetto noi lo dobbiamo certo che lo dobbiamo dare ma per forza mandare Ibiza non è un progetto non è nessun progetto e io non pago Ibiza voi sì e si vede che vi piace buttare via i soldi io che ne so io non li butto via i soldi eh è bello magari magari poi non andando Ibiza ti viene l'idea di andare da qualche altra parte per esempio in Olanda c'è un amico che che studia lì è interessante molto interessante è bellissimo io c'era una ragazza quando ero in Olanda finiamo sull'amore bellissima era una psicologa e giovane e anch'io ero molto giovane e si guadagnava da vivere facendo la cantante gruppo rock sono andato una volta solo a vederla era veramente inquietante era rock durissimo eh ho preso anche un po' paura perché eh sa mai vabbè vivevamo in questo appartamento di ad Amsterdam che era del comune di Amsterdam per l'università c'erano anche tre o quattro ragazzi con noi eh bene l'inverno è duro e a un certo punto il boiler si è rotto eh abbiamo fatto una riunione nell'appartamento e non c'avevamo una lira niente e quindi abbiamo detto beh da adesso mettiamo via i soldi e quando ce li abbiamo chiamiamo l'idraulico e quindi sono passate credo un paio di settimane minimo eh senza riscaldamento e senza doccia la doccia si rimedia in qualche modo eh a un certo punto vabbè poi abbiamo messo questo boiler ci avviciniamo a Natale lei mi fa cosa facciamo a Natale dico boh che facciamo a Natale non lo so ti dispiace se il 24 andiamo dai miei genitori dico a cena eh non vedo l'ora non mangiamo niente quindi se se a cena dai tuoi sicuro no perché lei era un po' imbarazzata dice magari questi italiani eh dico scusa dove abitano i tuoi genitori eh Denag Denag sarebbe Laia capitale dove abitano tutti i funzionari il governo roba forte ah però dicevo tra me me non me l'ha neanche mai detto però c'è di papà sarà importante non so andiamo lì villetta giardinetto carino era arrivato anche il fratello da non su dove io naturalmente li ho lasciati fare si incontravano dopo credo abbastanza tempo e siccome non mi faccio mai gli affari miei ho cominciato a girare un po' per la casa e apro una porta e c'era lo studio di suo padre immaginavo io tutti i libri scrivania poltrona e sulla scrivania un fiorino all'epoca c'erano i fiorini d'oro tra due pezzi di plexiglass stavo giusto guardando il fiorino d'oro quando arriva lei ha detto scusa sai non volevo darvi fastidio mi sono fatto sono entrato qua ho fatto male no 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 perché ho visto che tuo padre ha un fiorino d'oro sulla scrivania e dice certo ma scusa chi è tuo padre è il presidente della banca centrale d'Olanda dico scusa noi siamo stati due settimane senza boiler e tuo papà fa il presidente della banca centrale d'Olanda ovvio che sì che bella lezione pensa a essere stati fidanzati con il presidente della banca d'Italia ti arrivano nove boiler eh amore mio vuoi scegliere eh vuoi un bel violent eh ci sono vari violent vari riello Dio con sette servitori ma per carità ma pensa che dignità a 26 anni badi a te stessa ma certo che sì ti fai un concerto in più vai a fare un concerto da qualche parte guadagni i soldini e metti a posto il boiler cosa c'entra tuo padre questo è una cosa di dignità ecco la passione parte porta anche alla dignità perché se c'hai passione non dipendi dagli altri è un salvavita perché non dipendi dagli altri non devi chiedere la carità a qualcuno è anche perché quella telefonata non si poteva fare non si poteva fare non l'avrebbe fatta lei il suo padre non avrebbe gradito quella telefonata perché non è uno sponsor e neanche un bancomat e quindi credo che questo sia un bellissimo vedi a girare un po' si imparnano tante cose se tu hai un po' l'umiltà di capire e io che non ero così ho cominciato a rispettare anche quella cultura mi è piaciuta è una cultura di persone che stanno con la schiena dritta altro che facilitazioni bene come finisce la serata? con un bacio io vi ringrazio penso lo dico adesso perché la serata è finita siete quasi tutti qua li ho contati perché sembra che io non vi controlli sono andati via due da là due da qua vi ringrazio io penso che questa vostra presenza sia per me una grande responsabilità perché io giro da tanti 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 anni e quindi se la gente viene a sentire quelle quattro chiacchiere che posso fare vuol dire che vuol dire che mia responsabilità è cercare di dire delle parole di chiarezza poi naturalmente sono miei pensieri ognuno torna a casa come crede come vuole come ha sempre pensato non voglio nulla di diverso però mi piacerebbe che da quando siete venuti qua o adesso che ce ne torniamo tutti a casa qualche cosa si è cambiato che piccola cosa si è cambiato qualche dubbio in più qualche anche qualche speranza anche qualche qualche cosa questo io penso che sia il compito di un intellettuale che non è quello di contare le coppie che vende o di andare ai premi letterali credo che sia di di cambiare qualcosa una una signora proprio qua a Imola tanti anni fa mi raccontò non era mai venuta a sentirmi e quindi era andata al teatro all'osservanza il vecchio manicomio che c'è adesso una bellissima sala e davanti alla fila perché ancora non era aperto il teatro c'era una signora molto più anziana di lei molto anziana e lei un po' si incuriosì di questa signora che era proprio in prima fila e dice ma lei va sì certo e questa signora anziana dice ma lei è la prima volta che va a sentirlo dice sì è la prima volta che vengo a sentirlo è pronta sì perché ma è pronta a farsi inquinare un po' la testa spero di averlo fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti